ciao ragazzi riprendiamo col calendario royal beauty smalti 10 dicembre e abbiamo trovato il rosa glitter vediamo un po se trasparente o meno allora male malissimo non è il rosa non tanto si vede però i glitter si vedono tanto il glitter si sono appoggiati parecchio quindi va bene al massimo facciamo che questo lo mettiamo lo usiamo come top coat su altri smalti quindi diciamo che alla fine va comunque bene anche perché a volte uno smalto glitter non si vedono così tanto quindi a parte che questi sono glitter abbastanza grandi tra l'altro non so se riesco a farveli vedere bene sono molto grandi poi ci sono alcuni più grandi alcuni più piccoli comunque va bene è ok almeno qualora hanno scritto glitter e quindi ecco quindi il e con questo è tutto ciò alla prossima domani